Italiani, popolo di emigranti e i veneti si sono fatti conoscere nel mondo come grandi lavoratori, innovando moltissime comunità cittadine estere. Per celebrare l'identità veneta, ma specialmente quella vicentina nel mondo, a Maraustica parte la festa dell'emigrante. Nella giornata di domenica riusciamo, e devo dirlo finalmente, ad avere questo momento di, possiamo dire, aggregazione, lavorando assieme con l'associazione Vicentini nel mondo. Avremo una cerimonia, naturalmente, seguendo tutti quanti i carismi del regolamento Covid, quindi col distanziamento. Ci sarà una breve sfilata in piazza Scacchi con deposizione della corona al Monumento dei Caduti, una messa e successivamente un pranzo conviviale e un'attività della zona.